Sono stato tri-worker europeo nel 97, poi mi sono trasferito nei primi anni 2000 a Pantelleria, dove ci vivo tuttora, vent'anni che vivo a Pantelleria, dove fondamentalmente faccio gestione delle palme. Quando ho conosciuto il Brigantes mi sono interessato subito perché il Brigantes per Pantelleria è una parca storica e questa nave è ancora nel cuore di tutti i Panteschi. Quando i ragazzi hanno portato questa idea di fare un sail in cargo è stato un fulmine sereno. Quello che mi chiedono i ragazzi è quello che fondamentalmente faccio di solito, mi arrampico. Non ti capita una volta nella vita di poter lavorare insieme ad altri ragazzi per riportare una vecchia gloria della marineria pantesca e del Mediterraneo, funzionante ancora. Il mio sogno è far diventare il Brigante, sono ambasciatore dell'isola di Pantelleria nel Mediterraneo e nel mondo questo sicuro perché è quello che desidero e sicuramente desiderano anche la maggior parte dei Panteschi. Rivedere e vivere questa nave che ha lasciato tanti tanti ricordi sull'isola di Pantelleria. Grazie per la visione!